Cosa sono le lacrime per i credenti, per noi cristiani? Il pianto di cui la Bibbia, la scrittura è bagnata, per noi cristiani è come un secondo battesimo, bellissima questa definizione, di cui ahimè non ricordo di chi fosse, ma credo di un pari della Chiesa. È un secondo battesimo, cioè è una nuova nascita, è una rigenerazione, è una risurrezione. Le lacrime nella vita spirituale sono certamente importanti quando nascono dal cuore. Da un cuore che si commuove. Pensate, Padre Pio piangeva continuamente quando meditava la passione di Cristo. Le sue erano lacrime di partecipazione, direi di pietas, cioè di patos con la sofferenza di Cristo. Questo Cristo che anche lui stesso nella sua vita umana ha pianto. Mi viene solo un episodio, quando leggiamo nella scrittura che Gesù piangeva per l'amico Lazzaro. Allora le lacrime come strumento, le lacrime come preghiera. Vi leggo dei versi di un grande poeta, ma anche filosofo e anche teologo. A me è molto caro, che io amo tanto, e che ha disseminato la mia strada, la mia vita. David Maria Turoldo. E il cuore di David Maria Turoldo è stato un cuore molte volte ferito. E leggendo i suoi versi si resta bagnati dalle sue lacrime, molte volte della sua sofferenza, molte volte anche dalla sua rabbia, molte volte anche dal suo dissenso, molte volte anche dalla sua commozione, dal suo gridare contro le ingiustizie. Ascoltiamo questi versi brevi che prendiamo dalla raccolta omnia, o sensi miei. Signore, dalla croce tu mi guardi con occhi che fanno del mio cuore un lago di pianto. Dalla croce tu mi guardi con occhi che fanno del mio cuore un lago di pianto. Lo stesso pianto di cui vi ho detto prima di Padre Pio. Il cuore diventa un lago di pianto quando partecipiamo, quando ci facciamo guardare da questi occhi del Signore, quando ci facciamo amare da questi occhi del Signore, dalla croce. Ecco, da oggi tutti dobbiamo cercare di fare una cosa semplice. Quando entriamo nelle nostre chiese, quando entriamo nelle nostre case, fermiamoci un attimo, guardiamo quel crocifisso e ripetiamo dentro di noi, Signore, guardaci dalla tua croce con i tuoi occhi e metti nel nostro cuore. Fa che il nostro cuore diventi un lago di pianto, cioè un lago di amore, di perdono, di misericordia e di riconciliazione. Io vi aspetto domani, Padre Pio TV, Dritto al Cuore. Ciao a tutti! Grazie a tutti!